a Montevergine. Sto parlando dell'onorevole Vincent Tarsia. Festa della Madonna di Montevergine. Prima di iniziare sono felice di annunciare che mi sono fidanzato la settimana scorsa. È un momento molto speciale e voi siete come una famiglia, allora volevo dire subito, ogni anno la festa di Montevergine come sappiamo è molto molto speciale. Dalla protezione, il comitato organizzativo e voi fedeli rendete questa ricorrenza molto molto unica e mi ha sempre colpito la partecipazione sanità di voi fedeli e la capacità del comitato organizzativo di coinvolgere grandi e piccini. Questa festa unisce persone e generazione, è un'occasione per divertirsi ma anche per condividere idee e valori e migliorare la comunità. Sono sicuro che l'organizzazione di questa giornata abbia richiesto molto tempo e vi ringrazio tutti coloro che sono adoperati per rendere tutto questo possibile. Il vostro impegno dimostra che per voi come per me è molto importante tramandare valori e tradizioni alle generazioni future. Avendo origini italiane, come Giovanni ha detto, mezzo altvillese, spero che i miei figli ma anche i vostri figli abbiano la fortuna di scoprire tutte le meraviglie della cultura italiana. E allora a volte le tramandino ai loro discedenti perché questa celebrazione della Madonna di Montevergine veramente è un tassello fondamentale nella realizzazione di questo progetto. Allora ancora una volta vi ringrazio tutti quanti e spero di ritrovare tutti qui l'anno prossimo. Buona festa e viva la Madonna di Montevergine! Grazie mille! Grazie mille! Tu sei un'ispirazione per noi giovani perché lui pensate che è il più giovane parlamentare. Quindi congratulazioni e soprattutto congratulazioni per il tuo fidanzamento in bocca al lupo!